aspetta forse sì forse sì forse ho trovato questo ve lo faccio vedere eccolo qui gran premio arabia saudita attacco terroristico non lontano dal circuito esplosioni e fiamme non ci credo raga io ho saputo di questa notizia già da martedì però dopo avevano confermato il gran premio quindi attore nuovo attacco degli uti su jedda mentre erano in corso le prime libere del gp arabia saudita minchia ma c'è il via può vedere il video man fra sotto ragazzi che dobbiamo dire su una roba del genere stato messo alle 350 il video durante le prove libere non facciamo neanche battute non scherziamo su ste robe qua speriamo che non ci siano feriti ovviamente vi aggiorniamo noi gara a rischio ha sicuramente sicuramente che merda comunque io non dico niente è una notizia vecchia no non credo che sia una notizia io ho visto già degli altri attacchi sempre in arabia saudita quindi non però questo è un altro attacco che dicono che sia un attacco alla sede arma arm co main sponsor di formula 1 quindi vabbè ragazzi adesso non ci occupiamo di queste cose qua lo sapete perché non abbiamo neanche il panel adatto tra l'altro magari lo formiamo se dovesse esserci qualcosa vi teniamo aggiornati sulla cucina punto esclamativo telegram ovviamente noi leggiamo apprendiamo prendiamo atto e vedere un attimo come muoverci ciao 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 Grazie a tutti.